Oggi voglio parlarti di un Battle Royale che devi assolutamente provare se ti piace il genere. In questo caso stiamo parlando di Naraka Blade Point, un titolo abbastanza diverso da quello che potresti ritrovare solitamente sul mercato di Battle Royale. Ma prima di iniziare con il video ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel pollicione in su ed accendi la campanella, altrimenti non ti arriveranno mai le notifiche sui nostri video. Ultima cosa, passa anche in descrizione perché troverai un link per scaricare direttamente il gioco e poterlo provare tu stesso. Naraka Blade Point, come potrai vedere da tutto il video che scorrerà di sottofondo, è atipico. Non siamo in un Battle Royale classico. Se io ti dico Battle Royale, a te viene in mente sicuramente il classico titolo nel quale impugni un'arma ed inizi a sparare alla gente. Poi state a decidere se una scorzone di cespuglia eccetera eccetera. Però nel caso di Naraka è un Battle Royale all'arma bianca. Quindi ci troviamo di fronte a qualcosa di strano ed è l'unico nel suo genere perché io sinceramente non ho mai trovato nulla del genere. C'è tanto di cui parlare e ne parleremo nel corso di questi dieci motivi per provare questo titolo. È molto particolare e questo mi porta direttamente al punto 9 che vedremo fra poco. Ma prima sappi che potrei scegliere tra una svagonata di armi e l'arba bianca, tra un paio di armi ranged e ovviamente ci sono molti personaggi tra cui scegliere e non è come avere una skin e basta in questo caso. Non finisce qui perché ci sono anche varie modalità e molto altro, ma tutto questo lo vedremo nel corso del video. Un'enorme nota di merito vai in gameplay che ci porta in un mondo molto più stimolante rispetto a quello di un Battle Royale classico dove impugniamo un'arma ed iniziamo a sparare. In questo caso si parla di imparare combo per ogni arma, ma soprattutto anche di creare il proprio personaggio perché il personaggio ha delle abilità ed oltretutto durante la nostra partita troveremo anche delle Soul Jade che sono degli oggetti che ci potenziano le statistiche. Ce ne sono di speciali, di concentrate sul melee o sul ranged e anche quelle che appunto mirano solamente le statistiche, quindi il 5% in più di danno fisico per capirci. Non è da dimenticare inoltre che l'arma che troverai se giochi la modalità Battle Royale è assolutamente casuale, quindi non è da poco perché devi imparare a giocare un po' tutte le armi, imparare le loro combo ma soprattutto imparare a fare i counter. Al riguardo ti consiglio di guardare il video 10 errori da non fare per giocare Naraka Blade Point nel quale ti parlo degli errori più basilari che potresti fare iniziando a giocare il gioco per la prima volta. Gli sviluppatori di Naraka Blade Point, 24 Entertainment appunto, mantengono il titolo costantemente aggiornato. Questo mese ci troviamo di fronte solamente ad un evento, ma il mese scorso ne avevamo più o meno 3-4 ed ogni mese è così. Questi eventi si possono dividere in quelli semplici che consistono solamente nel raccogliere determinati oggetti in giro per la mappa di gioco mentre ti fai affaracci tuoi, oppure ci troviamo ad affrontare delle missioni molto specifiche che ti permettono di avanzare nell'evento. In questo caso può essere semplicemente viaggia con il rampino per 200 metri, come uccidi 5 giocatori o fai 10 counter. Dipende insomma da quello che ti trovi davanti. Ma tutto questo lo rende davvero stimolante secondo me. Abbiamo un'enorme quantità di eventi e un'enorme quantità di supporto perché le armi vengono modificate e bilanciate costantemente e soprattutto 24 Entertainment ascolta tantissimo la community, che non è una cosa da poco al giorno d'oggi. Ti ho giustamente parlato degli eventi, ma mi sono dimenticato di dirti una cosa molto importante. Ossia che da questi eventi potrai ottenere svariate skin, sia per il tuo personaggio, elementi decorativi sempre per il tuo personaggio, oppure elementi cosmetici per la schermata di caricamento. In questo caso io mi trovo molto felice perché mi rende il titolo variegato e mi dà un motivo per partecipare ad ogni evento del gioco. Nell'evento attuale ad esempio puoi ottenere un piedistallo ed un emote semplicemente giocando. Niente di più semplice. Lascia un bel cuore rosso se finora tutto quello che ti sto dicendo ti sta piacendo, altrimenti un bel cuore nero. In questo punto siamo strettamente collegati al punto precedente. Gli acquisti in game non sono necessari. In questo caso andiamo a toccare un argomento che a me spiace trattare nei video perché molto spesso nei sei mesi in cui ho giocato a Naraka e l'ho portato sul canale mi sono ritrovato anche a parlare delle skin che venivano aggiunte, giustamente, e queste solitamente sono a pagamento. Giustamente però 24 Entertainment ci mette davanti la scelta. Tu puoi spendere dei soldi veri, quindi denaro sonante, per acquistare delle skin che ti piacciono estremamente, oppure puoi anche solamente decidere di partecipare a tot eventi che ogni tot tempo vanno a regalarti anche delle skin per personaggio, oppure possiamo anche trovare delle offerte molto vantaggiose in questo caso. Io ad esempio ho una skin che è stata fatta per un evento, un cross, nel quale hanno messo questa estetica per il personaggio al misero costo di un euro, ed io ovviamente me lo sono preso. Poi torniamo sempre sul fatto che dipende da te decidere se spendere o meno. Considera comunque che ti puoi fare dei personaggi carini anche senza andare a spendere dei soldi, che secondo me non è una cosa da poco. Ed arriviamo adesso alla parte succosa del titolo. Ci ritroviamo davanti ben 19 eroi tra i quali potrei scegliere. E tu mi dirai, sì ma Fortnite ha molte più skin per personalizzare il mio personaggio. In questo caso ragioniamo in maniera diversa, perché ogni eroe è diverso da un altro. Ognuno di essi ha due abilità, un'attiva che puoi scegliere di attivare quando vuoi, ed una che è la sua Ultimate, si ricarica più lentamente e ha degli effetti più devastanti. Ogni eroe, messo nelle mani di un giocatore diverso, cambia l'esito del match, perché ad esempio io mi trovo molto meglio con Tessa rispetto a molti altri eroi. Mi trovo bene con Temulk, ma gioco molto meglio Tessa, essendo diventato il mio main con il tempo. Questo ti fa capire fin da subito che ci troviamo di fronte ad un Battle Royale atipico, come ti ho detto nel primo punto che abbiamo trattato. È tutto molto diverso da quello che ti aspetteresti, e a me non dispiace, anche perché mi vai a giustificare la presenza di più eroi che potrò sbloccare nel corso del gioco e mi vai anche a creare della diversità. Io avendo Tessa gioco in una maniera, ma se vado a giocare una Matari mi troverò con delle abilità completamente diverse, ed in questo caso ti ritroverai anche a giocare contro degli eroi sempre diversi, vivacizzando così anche il gameplay. Quarto punto nella lista, che è quello che di solito piace di più a tutti, ci sono vagonate di armi tra cui scegliere. Abbiamo ben 20 armi totali, di cui la maggior parte melee, che è lo scopo principale del gioco, ed un paio di ranged, come arco, fucile, oppure semplicemente una balestra a ripetizione. Le armi ranged sono molte meno, ma ci sta appunto perché Naraka Blade Point è un titolo concentrato, che si concentra più che altro, sugli scontri l'arma bianca. Ed in questo caso ti voglio anche parlare sul fatto che ogni arma è differente dalla precedente. Ognuna ha delle combo diverse. E, torniamo sempre sul discorso, nelle mie mani uno spadone può essere buono, nelle tue mani può far carino. Questo dipende dalle tue preferenze e da come ti trovi. Io ad esempio, nonostante sia un'ottima arma, non riesco ad utilizzare la lancia, perché non mi piacciono le sue combo, nonostante tu stia vedendo un gameplay in cui le utilizzo. Se io avessi avuto un'arma differente, avrei potuto fare la differenza. Quindi, in questo caso, nuovamente, una varietà di scelta non indifferente e che non mi dispiace, soprattutto perché giocando nella modalità Battle Royale andremo a trovarle casualmente, quindi mi porta a impararle un po' tutte, anche se non voglio. Se hai paura di annoiarti, nonostante tutto quello che ti ho detto, considera anche che all'interno della modalità Battle Royale ci sono delle taglie, ossia delle pergamene fluttuanti che potrai decidere di attivare per ottenere dei soldi da spendere negli shop che trovi in giro per il gioco. Questi servono ovviamente a potenziarti e le taglie, secondo me, vivacizzano il tutto. Ce ne sono, se non vado errato, cinque. Partiamo dalla ricercato, la più semplice tra tutte, ti punterà un nemico e tu dovrai andare ad abbatterlo per ottenere dei soldi. Però potrebbe anche arrivarti una missione del tipo taglia, in questo caso sarei tu a venire segnalato sulla mappa e gli altri giocatori a darti la caccia e tu dovrai sopravvivere per un tot di tempo. Queste sono quelle più concentrate sul melee, ma ovviamente ci sono anche dei metodi per fare dei soldi velocemente. Ad esempio, potresti trovare la missione che ti richiede di andare a suonare una determinata campana, aprire una cassa, oppure semplicemente fare un emoto davanti ad una certa statuetta. Questo secondo me vivacizza il tutto e ti porta anche a provare strategie diverse, perché ad esempio potresti decidere di accumulare soldi se non hai trovato degli oggetti utili e quindi ti porta a fare le missioni più semplici per ottenere appunto il denaro suonante e poter così potenziare il tuo personaggio. Al secondo posto troviamo un semplice fattore. Ha più modalità di gioco. Ci sono ben nove modalità, ovviamente divise in solo duo e trio nel caso del battle royale. Troviamo i quick match, le ranked ed infine troviamo anche quelle con i bot, che io ho comunque considerato perché sono utili per prenderci la mano. Inoltre, se decidiamo di andare nella sezione casual, troveremo il capture the spirit well, che ci mette di fronte alla classica conquista dei punti. È un gameplay molto atipico per un titolo del genere, ma molto molto divertente secondo me. Troviamo anche la modalità bloodbuff, che è la mia preferita. Tutti contro tutti, semplicemente chi fa più punti vince. C'è il bloodsport, che è bloccata, il true the fire, i vari training che potrei decidere di eseguire ed infine una modalità pve. In questo caso, devo essere sincero, la modalità pve non brilla di luce propria. È un po' lasciata a parte, nonostante venga comunque curata dagli sviluppatori. So per certo che a breve arriverà comunque una nuova sezione della storia. Quindi anche in questo caso devo ammettere che il supporto che ti ho menzionato prima c'è. Ed ora tu mi chiederai, sì, lo voglio provare, perché tutto quello che hai detto mi è interessato, senza considerare che ho lasciato da parte i vari approfondimenti sul Jade, su armi, su personaggi. Si potrebbe parlare per ore. Ma quanto costa? Ti chiederai tu. Beh, Naraka Blade Point è diventato un free to play da un paio di mesi. Lo potrei scaricare sul computer utilizzando il link in descrizione, oppure lo potrei trovare anche sulla PlayStation 5 se hai solamente una console. E credo, ma potrei dire una cavolata, che sia presente anche su Xbox. È un titolo che secondo me diverte, e se ti piace il genere e se vuoi cambiare un po' anche il stile del Battle Royale solito a cui stai giocando, secondo me vale un tentativo. E detto questo io direi che ci possiamo salutare. Lasciami un bel cuore giallo se proverai il titolo. Noi ci vediamo domani in un prossimo video. Mi raccomando, iscriviti al canale per supportarci. Ciao ciao! Questa lista di nomi che vedi scorrere dal basso verso l'alto sono tutti gli abbonati del canale. Quelle persone che hanno deciso di supportarci perché semplicemente apprezzano il nostro lavoro. E noi li ringraziamo alla fine di ogni video, mettendoli in questa lunga lista, ma soprattutto con un enorme abbraccio e permettendogli di vedere i video in anteprima. Se anche tu vuoi supportarci avrai sicuramente capito cosa devi fare. In realtà è davvero semplice e non credo di doverti ispirare molto di più.